Nella notte tra domenica e lunedì una violenta alluvione ha colpito e inondato la capitale del Burundi, devastando soprattutto i quartieri più poveri. Lo scenario attuale è di un fiume di fango con 3.600 case distrutte, i soccorsi sono difficili, i ponti sono crollati. È per non restare indifferenti a una situazione così drammatica che il gruppo Camenghe Piacenza ha convocato la stampa. Avendo visto comunque con i miei occhi la situazione in Burundi senza un alluvione, mi riesco bene ad immaginare il Burundi con un alluvione, nel senso che il Burundi è il terzo paese più povero del mondo e soprattutto i quartieri nord, che sono stati i quartieri più colpiti, sono quartieri fatti di case di fango, a cui tra l'altro il centro partecipa attivamente perché d'estate organizza dei campi di lavoro per la costruzione delle case. Queste case colpite da un alluvione si sfaldano con una facilità estrema. La povertà quindi era già difficile prima, ma penso che questa alluvione non abbia distrutto solo delle case, ma anche delle speranze. L'associazione di volontariato, oltre a promuovere un turismo responsabile nella capitale, opera a favore del centro per giovani. Il gruppo ha attivato una raccolta fondi con l'impegno di documentare l'impiego delle risorse. Le coordinate per gli aiuti sono indicate sul sito internet www.amaoro.pc.it.